Oltre alla sfida di cartello che si gioca a Buchiani con l'altro incontro in vetrina del dodicesimo turno di andata è quello che si gioca a San Buceto e mette di fronte le due squadre che dividono a braccetto il terzo gradino del podio. I padroni di casa dell'Atletico San Buceto, in ripresa dopo il confortante successo esterno di Silvi, ospite il Montesilvano, squadra abituata a lottare per i piani nobili della classifica, partita inizialmente a fari spenti ma ormai inserita di diritto tra le pretendenti al salto di categoria. Il quintetto del presidente Soccio, d'altro canto, pur con alcuni passi falsi inaspettati lungo il proprio percorso, rimane ancora in grado di cullare ambizioni d'altissima quota e deve cercare di carpire il punteggio pieno nella gara casalinga lasciandosi alle spalle una diretta rivale. I locali iniziano subito a sprombattuto con l'acchetta che viene chiamato inizialmente in causa dagli affondi di Della Matrice e Fragassi ridotti a più miti pretese dal numero 12 avversario costretto suo malgrado ad arrendersi poco dopo allo stesso Fragassi che permette ai suoi di andare in vantaggio con un perfido rasoterra che non lascia scampo all'estremo rivale. Sulle ali dell'entusiasmo il Sambuceto insiste in avanti con Aiello che cerca di beffare l'acchetta trovatosi fuori dai pali con una palombella dalla distanza zerata da un avversario a ridosso della linea di porta che sulla conseguente ribattuta dell'appostato Il Grande viene salvato dal legno traverso. Dal possibile raddoppio della squadra di casa si passa invece al pareggio del Montesilvano che si concretizza pochi secondi dopo Concilli in versione portiere di movimento che castiga Cellini con un diagonale imprendibile per il numero uno di casa vanamente proteso in uscita. Il quintetto di mister Arquilla si fionda subito in avanti a caccia del nuovo vantaggio ma sul diagonale di Fragassi destinato nell'angolino più lontano il provvidenziale intervento sulla linea di Castagna preserve il prezioso vantaggio per la squadra montesilvanese che suda freddo ma acquista nuovo vigore si fa più aggressiva col passare dei minuti si comincia con il tocco ravvicinato di Crisante di pochissimo a fil di palo e si prosegue poi con la girata del bomber Di Muzio che da due passi si fa respingere la battuta dal reattivo Cellini. Per Di Muzio l'appuntamento col tabellino marcatore è soltanto rimandato di qualche istante e infatti la griff d'autore del capocannoniere del campionato si manifesta fragorosamente al sedicesimo quando infila nel sacco approfittando dell'invito di Galliani che approfitta della grave indecisione di Cellini il quale si lascia sfuggire la sfera e non può evitare la beffa con la porta rimasta incustodita il sorpasso del Montesilvano viene arginato prontamente da della matrice che ristabilisce il risultato di parità al culmine di uno scambio stretto con il grande la sfida rimane ancora in perfetto equilibrio e a dimostrazione di quanto appena asserito il Montesilvano rischia di tornare in vantaggio con il gran siluro di Galliani che fa tremare la traversa di Cellini la squadra di casa reagisce e dopo la chiusura sul primo palo di Cilli che smorza sul fondo il diagonale di Aiello l'atletico torna a condurre con Fragassi che arriva a rimorchio intercettando il tacco di il grande e scaraventando in rete con un gran diagonale che non lascia scampo al portiere di turno del quintetto Montesilvanese passa soltanto un minuto e l'atletico comincia a prendere il largo assicurandosi la quarta realizzazione con il grande il quale gioisce stavolta in prima persona al culmine di una devastante percussione imbastita da Fragassi e rifinita poi da Aiello e dallo stesso Fragassi azzerati con affanno dalla difesa ospite che poi viene piegata dal definitivo tap-in del numero 11 di casa la frazione si chiude col ritorno in avanti del Montesilvano ma i ragazzi del presidente Cordoma non riescono a scardinare la porta di Cellini coadiuvato in questo caso da Fragassi che protegge la sfera consegnandola al suo estremo difensore e depotenziando l'insidioso tiro cross di Di Muzio questo ultimo ci riprova anche alla riapertura delle ostilità ma stavolta è lo stesso Cellini a chiudere la saracinesca l'intervento dell'estremo di casa dalla carica ai suoi che poco dopo rimpingua nel punteggio con Di Martino che concretizza la cinquina per i suoi raccogliendo l'invito di Della Matrice e anticipando il tentativo d'uscita di Lacchetta la gara a questo punto sembra incanalata verso un risultato che appare scontato ma il Montesilvano ha un colpo di coda e riesce a rimettere tutto in discussione dapprima con la realizzazione di Di Muzio che al settimo infila Cellini da due passi sfruttando l'invitante suggerimento dalla sinistra di Di Berardino e subito dopo con lo stesso Di Berardino che un minuto dopo si riavvicina ulteriormente ai rivali con un gran siduro da distanza ragguardevole l'Atletico comincia a non avere più le stesse certezze e deve ringraziare il proprio portiere Cellini tempestivo per arginare la corrente Crisante e il successivo siduro di Di Muzio dall'altra parte i suoi compagni di squadra si rivedono con il doppio tentativo di Fragassi arginato da Lacchetta con qualche difficoltà il Montesilvano non è per nulla intimorito dalla squadra di casa e non lesi ne impegno per cercare tutte le strade per rientrare in gioco al diciottesimo Cellini è reattivo sul siduro di Di Berardino e pochi secondi dopo si ripete sul diagonale di Crisante il Sambuceto torna a pungere a sua volta con una serie di iniziative insidiose che puntano a chiudere la pratica ma anche Lacchetta fa il suo dovere sul tiro ravvicinato di Di Martino e blocca in due tempi il gran siduro di Aiello dalla mediana al ventiduesimo Repetto Coadiu va il proprio portiere sull'affondo di Di Muzio e innesca la ripartenza dell'Atletico con il sinistro di Il Grande che si spegne a fondo campo i fuochi pirotecnici sono riservati alle fasi declinanti della contesa ad iniziare dalla rete di Castagna che al venticinquesimo fredda Cellini con un diagonale che si insacca nell'angolo più lontano e riesce a completare la rimonta ma il pareggio ritrovato dal Montesilvano dura soltanto un minuto perché a questo punto sale in cattedra Fragassi che nell'arco di cinque minuti affonda i rivali con tre reti a stretto giro di posta al ventiseiesimo il numero dieci dell'Atletico riesce a trovare il pertugio per far passare la sfera tra una selva di gambe e indirizzarla nel sacco alle spalle di Lacchetta tre minuti dopo Fragassi fa centro approfittando del portiere di movimento dei rivali e indirizzando furbescamente la sfera nella porta rimasta incustodita a ridosso dei titoli di coda Fragassi festeggia la sua cinquina personale approfittando del momento di disattenzione di Di Berardino che si fa rubare la sfera dall'avversario il quale non perdona e ufficializza la festa dei suoi che muovono la classifica e distanziano al tempo stesso una diretta rivale per la corsa ai playoff Davide Arquilla è il tecnico dell'Atletico San Buceto calcio a cinque è stata una bella partita anche se avete sofferto un po' quando loro giocavano con il portiere in campo sì sì loro sono molto bravi in questo una loro caratteristica importante già dall'anno scorso quindi ne eravamo consapevoli abbiamo cercato di prepararla e devo dire che quando siamo stati capaci di fare la scelta giusta del tipo di atteggiamento da avere l'abbiamo difesa bene quando abbiamo avuto dubbi sul tipo di atteggiamento dare pressione o non dare pressione chiudere un passaggio piuttosto che un altro in quei tempi morti loro hanno avuto gioco facile diciamo però lo sapevamo l'avevamo preparata sapevamo che sarebbe stata una partita dura fino alla fine anzi per assurdo premesso che abbia fatto molti errori individuali sui gol presi meglio essere arrivati alla fine sul filo del rasoio in modo che loro hanno usato il portiere di movimento a fasi alterne perché forse sarebbe stato peggio andare in vantaggio a metà secondo tempo di due o tre gol e poi subire la rimonda sul filo del rasoio e così nella parte centrale la partita è stata in equilibrio e fortunatamente alla fine difendendo e ripartendo sul portiere di movimento abbiamo chiuso la partita sì anche se loro mister sono riusciti a pareggiare però voi proprio perché avevano il portiere di movimento siete riusciti a fare quei due gol che vi ha permesso di stare tranquilli sì sì appunto dicevo all'inizio del secondo tempo sì eravamo in vantaggio di tre gol poi nella fase prima della fase centrale del secondo tempo abbiamo subito il pareggio quindi loro sono stati bravi noi meno bravi in quella fase poi fortunatamente la partita essendo in equilibrio siamo riusciti a punirli su quella situazione però sapevamo benissimo che loro sono bravi al portiere di movimento ripeto abbiamo fatto qualche errore di troppo nella decisione del tipo di atteggiamento da avere nel secondo tempo nel primo tempo soprattutto sul primo gol sono molto dispiaciuto perché era una situazione che avevamo provato e l'abbiamo fatto però nel voler fare un qualcosa in più in quel momento abbiamo sbagliato il tipo di giocata diciamo sì dal pareggio mi serai in casa col Celano due settimane fa e poi sono venute due vittorie ecco cos'è cambiato? dal pareggio col Celano non è cambiato nulla nel senso che la partita giocata con il Celano è stata una grande partita pareggiata con un'ottima squadra e quello che è cambiato è cambiato prima dopo la partita con l'Avezzano lì il Donorione che abbiamo giocato male quella per noi è stata la terza sconfitta e da lì è cambiato qualcosa secondo me la partita col Celano lo confermo è stata ben giocata non voglio commentare gli episodi io sono ancora squalificato quindi è presto per commentare gli episodi e quindi assolutamente però ripeto la partita col Celano è stata ben giocata e il pareggio con quella squadra lì non è assolutamente un risultato negativo certo tre sconfitte più un pareggio i punti in classifica mancano però contro il Celano è stata una bella partita ripeto pareggiata con degli episodi che avrei volentieri evitato di buono ripeto c'è stata la prestazione anche del Celano e c'è stata che poi da quella partita in poi finalmente hanno cominciato a cambiarci gli arbitri perché avevamo avuto sempre gli stessi arbitri sono le ultime due partite e ho visto due arbitri diversi forse la cosa che cambiava da Celano in poi è stata proprio questa Marcello Cordomo il presidente del Montesilvano calcio a 5 è una bella partita questo non si può dire si è tentati sotto siete stati bravi a pareggiarla 5 a 5 e poi forse con il portiere di movimento avete subito un po' la questione del portiere di movimento ovviamente ti dà delle opportunità in più che se non lo usassimo quest'anno e quest'oggi abbiamo giocato una buona partita di buona intensità contro una squadra attrezzata per una Serie B senza ombra di dubbio abbiamo recuperato come hai detto tu dal 5 a 2 al 5 pari poi purtroppo c'è stato quel calo di tensione perché abbiamo subito il sesto gol 30 secondi dopo il pareggio ma loro hanno dei giocatori di qualità sicuramente superiore della nostra che ti possono fare la differenza in qualsiasi momento della partita Presidente la vostra squadra è nata per? la nostra squadra è nata per mangiare la matriciana il giovedì sera dal nostro caro amico Gianluca Belmonte di Bolsena questo è il nostro appuntamento irrinunciabile della settimana a parte gli scherzi è uno degli impegni settimanali ed è nata per fare un campionato tranquillo se è possibile di ribadire l'ottimo risultato dello scorso anno quest'anno abbiamo confermato l'ottimo bomber Luca Di Muzio abbiamo preso è stato un rientro tra l'altro graditissimo di Gagliani Matteo e tutto sommato abbiamo confermato la stessa compagine dell'anno scorso vorremmo cercare se quest'anno si fanno i playoff di farli e poi di ovvero provvede anzi quest'anno è la prima volta che siamo entrati nella Final 8 e sarà per noi un piacere immenso riuscire a disputarla per la prima volta da quando è entrata in vigore nella Final 8 di Gagliani